Grave incidenti questa mattina intorno alle 12.30 a Fano, in Viale 1 maggio, all'altezza della BCC e del negozio di elettronica Computer Service. Le dinamiche sono ancora incerte in quanto sono ancora in corso i controlli delle telecamere della banca da parte della polizia locale, ma secondo i primi rilievi risulta che un camioncino con a bordo due corrieri, l'autista, un ventenne di fermo ed un collega, provenienti da Fano e diretti verso Pesaro, avrebbe fatto inversione di marcia nel parcheggio che si trova davanti al negozio di elettronica. Mentre si stavano immettendo nella carreggiata, però, è sopraggiunta una moto proveniente da Pesaro, una BMW di colore nero. Il motociclista avrebbe urtato contro il mezzo pesante, finendo per schiantarsi contro un'auto parcheggiata davanti alla BCC, danneggiandone la carrozzeria. Il centauro, un sessantenne pesarese, è stato portato al torrette di Ancona con l'aliambulanza, atterrata in un campo nei pressi del luogo dove è avvenuto l'incidente. Sul posto, presenti due pattuglie della polizia locale di Fano per i rilievi di legge e per monitorare il traffico e di vigili del fuoco.